Eccoci qui, siamo in compagnia di Simone Picci, consulente di Dentalid. Buongiorno. Simone io adesso ti farò un paio di domande per capire un attimino cosa fa un consulente Dentalid e in che cosa si distingue un pochettino rispetto ai consulenti che siamo abituati a vedere. Allora Simone, iniziamo. Com'era la tua vita prima di Dentalid? Che cosa non ti soddisfaceva? Allora, la mia vita prima di Dentalid nei precedenti lavori in realtà aveva una pecca, ovvero che iniziavo quindi con la mia attività con entusiasmo, con passione, con vera tenacia poi di raggiungere determinati tipi di obiettivi personali o lavorativi che siano. Nella realtà però poi dopo un po' di tempo gli obiettivi si raggiungevano e i limiti venivano oltrepassati e poi avevo un momento di in realtà discesa e quindi di noia nella realtà dei fatti, cosa che invece al contrario in Dentalid non è successo. Ho capito. Quindi come hai provato a risolvere questa situazione un po' di stallo, un po' di noia che ogni tanto subentra e che risultati magari hai ottenuto cercando di trovare soluzioni? Allora, nella realtà dei fatti ogni volta che il lavoro quindi mi portava della noia, in realtà creavo nuove opportunità, nuove aziende, nuove collaborazioni, nuove proprie attività lavorative che mi portavano poi ad entusiasmarmi perché a me piace molto entusiasmarmi nel lavoro. Quindi nella realtà dei fatti sono andato a gestire altre situazioni defocalizzandomi poi sul lavoro stesso chiaramente perché sopraggiungeva appunto, non dico la noia perché la noia forse è una brutta parola in questa circostanza qua, però un impasse che forse è la parola più corretta di stallo. Ho capito. E come sei entrato in contatto con Dentalid quindi? Allora, io in realtà sono entrato in contatto con Max per vie traverse, non sono venuto con un contatto diretto, insomma che non ho mandato una candidatura in maniera diretta, ma per una serie di circostanze tra le quali le opportunità della noia, giusto per riprendere il discorso di prima, mi sono trovato a dialogare per diverso tempo con Max. Poi ad un certo momento abbiamo pensato di fare un'analisi del potenziale, quindi fare un test per capire se o meno potevamo collaborare assieme, perché per entrare in Dentalid bisogna avere delle, diciamo, delle basi importanti sia di conoscenza, ma soprattutto di attitudine alla tipologia di lavoro, perché non è un lavoro per tutti chiaramente. Ho capito. E quindi che risultati hai ottenuto da quando sei entrato in Dentalid? Com'è cambiata la tua vita? Allora, la mia vita è cambiata nella realtà dei fatti drasticamente, perché ho preso coscienza di chi ero e soprattutto Dentalid mi forma quotidianamente nel capire sempre meglio che direzione prendere nella mia vita. Questa è un qualcosa che è impagabile ed è qualcosa che difficilmente puoi trovare in altre aziende. Essendo un'azienda che forma imprenditori nella realtà dei fatti, forma te come consulente per far sì che puoi insegnare ai tuoi clienti ad essere degli imprenditori. E questo fa tanto perché ti fa anche capire quali sono le tue attitudini, quello che ti va di fare e cosa ti riesce meglio. Che è tanta roba, cosa che nella realtà dei fatti, facendo un lavoro di vendita di prodotti o vendita di servizi puro, non hai. Sei limitato lì. Perché consiglieresti Dentalid a un consulente che magari parte da una situazione di noi oppure vuole cambiare un po' come è venuto a te. Ok. Allora, Dentalid in realtà io lo consiglierei perché? Perché nel momento in cui entri, indipendentemente se sai o non sai chi sei, perché nella realtà dei fatti potresti saperlo o potresti pensare di saperlo, che è una cosa estremamente differente, nella realtà dei fatti quando entri tu hai un piano di avanzamento, quindi un piano di crescita e puoi scegliere la tua strada. Perché Dentalid nella realtà dei fatti non è solo un piccolo consulente o un mero consulente che ti accompagna nel far crescere lo studio, ma ti dà una direzione e quindi su varie attività puoi avere un piano di avanzamento di crescita professionale che può prendere diverse strade da questo punto di vista. Mi puoi allora spiegare un po' queste strade e come si cresce all'interno di Dentalid? Ok. Allora, tu all'inizio ovviamente entri e vieni formato. Quindi vieni formato con una formazione, chiamiamola base. Hai dei passi da seguire per per l'avanzamento. In un certo momento, quindi della tua vita professionale in Dentalid, quindi Dentalid ti dà la possibilità di direzionarti, di avere una direzione sulla quale prendere. Potresti essere una tipologia di consulente strategico, potresti essere un consulente atto alle vendite, potresti essere un consulente atto alla gestione delle persone. Sono tre tipologie di percorsi che un'azienda come Dentalid ti dà la possibilità di avere in base a ciò che ti piace fare. Perché ricordiamoci sempre, se noi abbiamo piacere nel fare il nostro lavoro, lo facciamo sempre meglio. Questa è una cosa che, credimi, nessuna azienda d'età, e io ho lavorato anche per grossi gruppi, quindi ti posso dire che non esiste da nessuna parte una scelta del genere. Quindi mi stai dicendo che in pratica sviluppi un percorso in base alle tue attitudini, in base al tuo desiderio di crescere verso una parte piuttosto che verso un'altra, quello che ti piace più fare e quello per cui sei più predisposto. Esattamente, esattamente. E questo Max, quindi in qualità ovviamente di titolare, è primo formatore dell'azienda, ti aiuta passo passo a farlo. Cioè quindi tu non entri in azienda non sapendo cosa succederà domani mattina. Tu sai esattamente cosa puoi fare, cosa devi fare e cosa non puoi fare anche, eh? Ovviamente. Esatto. Ok. E quindi adesso come ti senti di poter aiutare un tuo cliente? Come pensi di aiutarlo a crescere, a svilupparsi? Allora, quando un cliente viene in contatto con me, con me o con altri miei colleghi ovviamente, la prima cosa che noi facciamo è capirlo. Quindi capire qual è la sua situazione, capire cosa vorrebbe logicamente, ma anche cosa vorrebbe emotivamente parlando. Perché ovviamente le due cose possono essere anche distinte da quello che è l'irrazionale o il logico, insomma, da quello che veramente vorrebbe. Quindi la prima cosa che facciamo è capire questo. In un secondo passaggio è far sì che, come si dice, i suoi sogni diventino realtà. Facciamo questo e lo facciamo veramente step by step. Perché è inutile negarlo che qui si lavora, si lavora tanto, si lavora tanto con i clienti, siamo a stretto contatto quotidianamente parlando. Ma nella realtà dei fatti quello che a noi piace fare è accompagnarli e far sì che ogni singola attività venga fatta, venga portata a termine, noi la verifichiamo, dopodiché andiamo sempre di più a mettere un altro tassello per questo mosaico che poi è la loro vita fondamentalmente. Ho capito. Quindi accompagnati il cliente passo a passo in tutte le attività che vi organizzate insieme comunque. Sì, assolutamente. Noi programmiamo qualsiasi cosa, la pianificazione è una delle parti più importanti di questo lavoro. Perché noi dobbiamo sapere esattamente cosa fare, quando farlo e ovviamente anche il perché farlo. Ho capito. Bene. Perfetto. Io ti ringrazio Simone e ti ho tediato abbastanza e ti auguro una buona giornata. Grazie a te. Altrettanto. Grazie.